Stavano facendo il traslogo, il bambino stava qua, stavano caricando il camion. Stava inapertitamente, il bambino si è allontanato e è andato vicino al cane, una cosa che non ci è andato mai. Quindi i cani non lo conoscevano? No, i cani lo conoscevano, però non sono stati mai aggressivi, il cane, tutto tranquillo, a volte ci giocava pure, c'era pure un paio. Però è una questione di fatalità. Un dolore grandissimo, inconsolabile e comprensibilmente poca voglia di parlare questa mattina. In casa della famiglia di Rocco, in contrada a Cantodice Pagatti, nel Pescarese, dove ieri sera ha perso la vita, il piccolo Ferdinando di Rocco, un anno e mezzo ucciso a morsi dal cane di famiglia che era legato ad un albero. Comunque erano cani che io li ho vissuti, non erano aggressivi, che hanno dato segni di... che potevano fare questo gesto praticamente. Magari mi è andato là, ma finì che poi l'ingiampato l'ha aggredito, non si sa, questo non lo sappiamo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire ogni aspetto di questa vicenda drammatica che si è consumata ieri. Intorno alle 18.30, mentre i familiari hanno impegnati nelle operazioni di trasloco, il figlioletto di un anno e mezzo ha approfittato di un attimo di distrazione ed è andato nel retro della casa. Qui si è avvicinato a Giulia il cane corso di famiglia di circa due anni ed è stato aggredito. Il latrato del cane ha richiamato immediatamente l'attenzione e appena arrivati si sono immediatamente resi conto della gravità di quanto accaduto. È stato chiamato il servizio di alisoccorso, ma per celerità il papà ha caricato il figlio in macchina ed è corso verso l'ospedale di Chieti. Stiamo cercando di chiarire ogni aspetto per individuare eventuali responsabilità che ci possano essere.